...di trovati, gli sfollati verranno sistemati nella zona della parrocchia, in un alloggio temporaneo, in attesa di trovare quello definitivo. Sindaco, mandali via, adesso non abbiamo tempo, è un casino, questo abbiamo deciso, abbiamo deciso che mandiamo via questa persona, mandali via queste persone da qua, e le mandiamo dove? La zona temporanea dove abbiamo detto che la facciamo? Qua, ok, ma nella zona temporanea questi qua ci possono stare tanto? Ok, bisognerebbe trovare una zona coperta, sì, coperta, oppure la troviamo noi la zona coperta, con un campo, con una tenda. E' un po' il baccato. Stai a quel baccato, dove vai? Eh, di chi sei? Sì, eh? No. E' un baccato. E' un baccato. E' un baccato. E' un baccato. Alla vicina. A che sa, allora? E' un baccato. E' un baccato.